Sono Pietro, con la mia famiglia coltivo uva in Valdinone, 750 metri di altezza. La mia azienda si chiama Laste Rosse, che in trentino significa roccia rossa. Coltivo circa un ettaro di vigneto, tutto in pendenza, tutto lavorato a mano e quindi qua si parla proprio di viticoltura eroica. Da tempo mi occupo della salvaguardia di un raro vitigno autocono chiamato Groppello. Sono un vignaiolo, un artigiano del vino, produco vini artigianali, vini di montagna. Venite ad assaggiarli, venite a trovarmi.